Bugiardino di carta addio, o quasi addio, le istruzioni per l'uso dei farmaci per tutti i bugiardino, quel foglietto che troviamo all'interno di ogni scatola di farmaci, diventerà elettronico. La Commissione Europea lo propone per garantire informazioni accurate ai pazienti nella loro lingua. Così, con questa innovazione e con le informazioni online, i pazienti e i servizi sanitari potranno avere accesso ai dati più aggiornati sui medicinali e si prevede una riduzione delle pratiche burocratiche per i professionisti dello sviluppo di farmaci, incluse le aziende dei generici. Con la digitalizzazione delle domande, l'Agenzia Europea per i medicinali avrà 180 giorni di tempo per l'autorizzazione, invece degli attuali 210, mentre la Commissione avrà 46 giorni invece di 67. Per i medicinali di superiore interesse pubblico, l'EMA dovrà impiegare 150 giorni per esaminare le domande in formato elettronico e i bugiardini. Questa innovazione va di pari passo con una più ampia riforma relativa alla legislazione farmaceutica, volta a garantire migliore accesso a medicinali innovativi e a prezzi accessibili per i pazienti e i sistemi sanitari nazionali.